Se amnistia e indulto saranno legge, dovranno essere applicate a tutti i cittadini, compreso Berlusconi. Così il ministro Quagliariello rispondendo al guardasigilli cancellieri, secondo la quale eventuali provvedimenti di clemenza non dovrebbero essere applicati al Cavaliere. Ancora forti le polemiche dopo la presa di posizione di Renzi, contrario all'ipotesi di amnistia e indulto citati dal capo dello Stato nel suo messaggio alle Camere. Tante le critiche dei ministri. Il sindaco di Firenze rivendica il diritto di essere in disaccordo con il Quirinale. Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa nonostante i tragici naufragi degli ultimi giorni. Un barcone con a bordo 137 migranti, tra cui 22 donne, è approdato all'alba senza essere stato avvistato. Sempre stamane la nave Libra della Marina Militare dovrà trasferire altre bare delle vittime del naufragio del 3 ottobre a Porto Empedocle. E oggi pomeriggio vertice a Palazzo Chigi col Premier Letta per affrontare l'emergenza nel Mediterraneo. Obiettivo triplicare le forze di pattugliamento, aerei, imbarcazioni e elicotteri per evitare nuove tragedie nel Mediterraneo. Giornata decisiva per le sorti di Alitalia. Alle 14 il Consiglio di amministrazione e alle 17 l'Assemblea ha chiamato a deliberare la manovra da 500 milioni di euro approvata all'unanimità venerdì scorso. Da chiarire se Air France KLM sottoscriverà la quota di propria competenza dell'aumento di capitale. Ancora aperto il cantiere della legge di stabilità da circa 12 miliardi di euro che sarà varata domani dal Consiglio dei Ministri. Uno dei nodi è la riduzione della cuneo fiscale. Si preannuncia poi la revisione delle aliquote IVA e la definizione della nuova service tax. Governatori sul piede di guerra per il rischio di nuovi tagli per gli enti locali. È la settimana del possibile default degli Stati Uniti che scatterà giovedì in assenza di un accordo sull'aumento del tetto del debito. Una risoluzione chiara è stata auspicata da Barack Obama dopo un incontro con la leader democratica alla Camera Pelosi. Parole di ottimismo dopo un vertice tra democratici e repubblicani al Senato. Con l'arresto di dieci persone esplode anche a Catania lo scandalo sui corsi di formazione. La Guardia di Finanza, a seguito delle indagini, è convinta di aver scoperto una vera e propria organizzazione finalizzata all'illecita percezione di contributi nazionali e comunitari per circa 9 milioni di euro destinati alla realizzazione di 112 corsi di formazione. I reati contestati a numerosi indagati sono a vario titolo peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falso e frode fiscale. I provvedimenti restrittivi, alcuni dei quali ai domiciliari, sono stati emessi dalle GIP su richiesta della Procura. La custodia cautelare in carcere è scattata per Giuseppe Saffo e per il nipote Francesco Cavallaro. Disposti domiciliari per Concetta Cavallaro, Manuela Nociforo, Eleonora Viscuso, Domenico Laporta, Rosa Maria Trovato, Giuseppe Bartolotta e Viaggio La Fata. Il GIP ha anche disposto il sequestro di beni per circa 3 milioni e 700 mila euro. Gli enti coinvolti nell'inchiesta sono l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, l'ANFE, l'Istituto di Ricerche e Applicazioni Psicologiche e Sociologiche IRAPS, l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati Siciliani, ANFES, e l'Istruzione Servizi Sport e Volontariato Italiano e Regionale, ISVIR, tutti con sede a Catania. Le indagini hanno anche interessato un funzionario della regione siciliana in servizio all'Ispettorato Provinciale del Lavoro del Capologo Etneo, che avrebbe revisionato i rendiconti degli enti e avrebbe, secondo l'inchiesta, violato le regole di controllo in cambio di incarichi a congiunti in enti interessati dalle indagini. E' ripreso questa mattina a Lampedusa il carico dei feretri delle vittime del naufragio del Teotrope scorso. Le bare sono state caricate sulla nave Libra della Marina Militare. In tutto 213 feretri, ai quali si sono aggiunti anche 21 migranti morti nell'altro naufragio, quello di venerdì scorso, a 60 miglia dall'isola. Destinazione Porta Empedocle, la stessa in cui ieri l'unità navale aveva trasferito 226 profughi, un'operazione che ha toccato le corde anche dello stesso equipaggio. E' difficile per tanti motivi, è molto difficile perché richiede un impegno del 100%, sempre, lunghi giorni in mare e capacità di reazione in questi momenti, nei momenti in cui un'imbarcazione con almeno 250 persone a bordo si capovalge in mare, nel mare più profondo. Quindi in quel momento bisogna mantenere lucidità e freddezza, riuscire a dare il massimo. E ieri pomeriggio, sempre a Porta Empedocle, l'arrivo della Cassiopea con il carico di morte, 150 bare. Tutte sono state portate al cimitero di Piano Gatta da Grigento, ne saranno inumate nel nuovo composanto una settantina. Applausi, lacrime e tanta commozione dalla banghina quando è partito il camion con le prime 22 bare. E i tre siciliani, davanti all'ostricione con la scritta Sangue Nostrum, hanno salutato i feretri, piangendo e dando sfogo al dolore. Non c'è sosta per le tragedie nel Mediterraneo. I tanti, troppi morti, non fermano né rallentano i viaggi della speranza. Altri 150 profughi, fra cui 22 donne, sono giunti questa mattina a Lampedusa. Erano a bordo di un barcone che è entrato nel porto dell'isola senza essere stato avvistato in precedenza. Sempre oggi altre bare della prima tragedia, quella del 3 ottobre, saranno trasportate da un'altra nave della marina militare, la Libra. E ci sono tante storie dietro ognuno di questi sbarchi, dietro ogni tragedia. Sono 38 i morti e 50 dispersi, mentre 147 le persone tratte in salvo nella seconda tragedia del mare, quella della scorsa settimana. C'è il drammatico racconto dei sopravvissuti che narrano come le motovedette libiche abbiano mitragliato la carretta del mare. Ma c'è anche il racconto dei soccorritori della marina militare che hanno tratto in salvo anche quattro neonati. Nelle immagini che vedete, uno appena uscito dall'acqua. I quattro bimbi sopravvissuti al naufragio in acqua sardimalta, giunti a Port Empedocle, sono stati salvati anche grazie agli altri naufraghi. I siriani che erano in acqua e che sapevano nuotare sarebbero riusciti ad afferrarli e a tenerli a galla fino a quando non sono arrivati i soccorsi. I piccoli sono probabilmente orfani e alcuni militari della marina militare in servizio nel pattugliatore hanno già chiesto di poterli ricevere in affidamento. L'eroe del giorno è Cosimo Vergine, fuciliere di marina e capo team del reparto San Marco che ha soccorso i migranti. Molti dei profughi, prima di lasciare il pattugliatore libero a scendere sulla banchina di Port Empedocle, si sono fermati a stringere la mano, ad abbracciarlo, a dargli una pacca sulle spalle. Una volta tratti in salvo, racconta, abbiamo cercato di confortarli in tutti i modi, soprattutto i bambini. L'orrore al quale questi uomini devono assistere, il senso di impotenza quando non riescono a salvarli tutti, è veramente insopportabile. Momenti di tensione stamane davanti la prefettura di Palermo dove 519 collaboratori scolastici della provincia attendevano l'esito del tavolo tecnico sul loro futuro. È scoppiato un alterco tra i manifestanti da marzo senza stipendio e qualcuno si è sentito male. Da sei mesi che i nostri figli vanno a scuola e non hanno neanche una merendina da portarsi a scuola. Da un mese e 15 giorni che noi facciamo sciopero per i nostri diritti non abbiamo esito di nulla. Precise le richieste dei sindacati, un emendamento ad hoc che inserisca nel decreto di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione anche i collaboratori scolastici che devono adesso scongiurare un altro pericolo, ovvero l'esternalizzazione da parte degli istituti in cui lavorano dei servizi di pulizia. Si deve intervenire in quello che è la gara che verrà emanata prossimo mese che riguarda l'appalto delle pulizie dove hanno preso i 519 posti accantonati per i collaboratori scolastici per darli come servizio dei pulizieri. Capite che già la differenza nasce dalla parola stessa. I lavoratori svolgono mansioni per 36 ore settimanali e si occupano della vigilanza, di accudire i bambini, collaborare con gli insegnanti. I pulizieri si occupano solo della parte delle pulizie prima dell'inizio delle ore scolastiche e alla fine. Preparare i giovani a guardare oltre l'Europa fornendo loro strumenti di orientamento alle carriere internazionali. Obiettivo Mondo è infatti il titolo della due giorni che si è tenuta l'11 e 12 ottobre al Palazzo Steri di Palermo, organizzata dall'Istituto per gli studi di politica internazionale in collaborazione con associazioni diplomatici, la Fondazione Sicilia e il patrocinio dell'Università di Palermo. Queste nostre giornate a Palermo si rivolgono ai giovani affinché si rendano conto intanto qual è il contesto internazionale in cui si muovono, che ruolo possono avere come operatori non so, il settore della cooperazione, piuttosto come diplomatici oppure come funzionari nelle principali organizzazioni internazionali, incluso l'Unione Europea. Ed è qui che abbiamo toccato appunto la crisi siriana, così come le tematiche dell'Unione Europea, più il come prepararsi. Professioni in crescente ascesa che richiedono un'accurata preparazione specialistica, ma anche determinate doti caratteriali. La capacità di lavorare in team con diversi background culturali, capacità di adattamento è fondamentale e naturalmente abbandonare la propria identità di persona che viene dall'Europa per andare a lavorare in contesti che non hanno raggiunto ancora questo livello, quindi capacità anche di capire, di rispettare e di collaborare con le popolazioni. La carriera diplomatica, considerata sino a qualche tempo fa una strada per pochi eletti, è soltanto una delle opportunità a disposizione dei giovani che vogliono lavorare all'estero. Comunità europea, organizzazioni internazionali, ma anche Ministero degli Affari Esteri e aziende private sono sempre più alla ricerca di profili specializzati. L'intera città dal centro alle periferie è trasformata in una fucina di contaminazioni artistiche, esperienze creative e voglia di progettualità. Dopo il successo della prima edizione tenutasi a settembre che ha richiamato l'attenzione di oltre 60.000 partecipanti, torna a Palermo la Settimana delle Culture, l'evento che si svolgerà nel 2014 organizzato dal Comitato Insieme per Palermo, nato per sostenere la candidatura della città a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Tra i luoghi della seconda Settimana delle Culture ancora i Cantieri Culturali e la Zisa che ospiteranno le mostre su Ernesto Basile il Mare e su Vittorio Ducrot, proprio negli spazi delle ex officine dell'industriale francese, e il complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo. Mentre si attende l'inserimento ufficiale di Palermo nella lista delle città candidate a Capitale Europea della Cultura 2019, si lavora la definizione del programma della manifestazione che mira ad esaltare le numerose espressioni culturali del capoluogo siciliano, svelando alla città molte bellezze storiche ed architettoniche talvolta poco conosciute. Artisti, intellettuali, compagnie, musei ed associazioni che volessero proporsi per partecipare alla seconda Settimana delle Culture dovranno presentare i propri progetti inviando una mail all'indirizzo infochiocciola insieme per palermo.com Vincere è l'unica cosa che conta. La massima, diventata a torto quasi esclusivamente di stampo bianconera, si può pragmaticamente applicare anche a questo Palermo. Ci crede fermamente chi guida il gruppo rosa-nero, quel Beppe Iachini, abituato in carriera a badare più alla sostanza che alla forma, preferendo l'efficacia sciabola al seppur bello fioretto. La vittoria contro il Pescara è probabilmente l'unica nota positiva della serata del Barbera, la più importante e dunque per ora basta e avanza. Ma a margine della gara con gli abruzzesi di Pasquale Marino ci sarebbe anche da sottolineare un crollo fisico quasi verticale dopo poco più di mezz'ora dall'inizio. Nessun dramma, certo, il lavoro in settimana è stato intenso e le assenze per gli impegni internazionali hanno senza dubbio influito sulla condizione atletica insufficiente della squadra. Allora meglio rimarcare le note positive. Terzo risultato utile consecutivo per Iachini e i suoi, con il tecnico ancora imbattuto dal suo arrivo. Da risaltare anche l'ottimo trend difensivo dei siciliani, che con il nuovo tecnico hanno subito solo un gol in tre partite, quando nelle prime sei ne avevano incassati ben sette. Sperare di poter centrare la promozione vincendo ogni partita di misura, soffrendo come ha sofferto ieri il Palermo, sarebbe pura utopia, ma aspettando un Palermo bellino e pettinato, che oltre ai punti proponga anche il bel gioco, mettere fino in cascina al momento può bastare, perché vincere alla fine è davvero l'unica cosa che conta. Un esordio che è più amaro di così era francamente difficile prevederlo. La prima del campionato di basket femminile di A3 non sorride affatto alle palermitane della Maddalena Vision, che tra le mura amiche del Palamangano hanno visto le ragazze di Castellammare di Stabbia passeggiare sul proprio parquet. Implacabile il 38-68 finale, che punisce il gruppo guidato da Piero Musumeci, all'esordio anche lui sulla panchina del Verga, con la giusta moneta, per una prestazione infelice sotto tutti i punti di vista. Lo testimoniano i dati impietosi a fine gara, 25% da 2, 33% da 3, oltre alla percentuale dei liberi, con un 3 su 12 delle padrone di casa contro i 12 su 14 realizzati da Stabbia dalla Lunetta. Le avversarie erano senza alcun dubbio di livello. La superiorità di Stabbia, stato canestro, ha fatto la differenza già dal primo quarto, chiuso dalla formazione ospite sul 5-24. Schiaccianti i mismatch con le lunghe Negri, Gemini e Minervino, tutte in doppia cifra, così come Sterile è risultata la fase offensiva delle palermitane, che solo nel quarto quarto è il risultato ormai acquisito. Sono riuscite a mettere in fila 21 punti, mandando la sola a Sicola in cifra doppia. Tante le palle perse, 12 in totale, andando ad arricchire gli aspetti sui quali lavorare in settimana prima della trasferta di Enagni sabato prossimo. Una squadra giovane, la nuova Maddalena Vision, che dovrà trovare in fretta la propria dimensione in un girone così immediato, composto da sole otto squadre, che non concederà da qui in avanti ulteriori passi falsi. Grazie a tutti.